I cancelli di Porta Romana sono grigi, invece i cancelli di Via Canova sono verdi. Quando viene giorno li aprono e quando viene sera poi li chiudono. Cos'è l'autismo? L'autismo è una bella domanda intanto. Il disturbo pervasivo mi dà veramente un'idea di qualcosa di profondo e di... di brutto, insomma, di dire cosa si fa ora. Credo che ci sia una predisposizione artistica da parte di uno che è disabile, autistico, come ti pare a te. Tu fai arte, se è una cosa normale, la fa diventare un mistero. Inclusione vuol dire accoglierli. È esattamente l'opposto di chiuderli in qualche istituto e non preoccuparsene più. Mi chiamo Filippo Zoi, sono un bravo artista. Mi piace disegnare porte, cancelli, illustrare libri e disegnare fumetti.